Verifica il ritenzionamento delle tensostrutture metalliche a sostegno della copertura in quanto la difformità di comportamento tra i vari elementi portanti al sistema di trefoni metallici può causare danni alle lamiere di copertura con conseguenti infiltrazioni d'acqua piovane nelle peggiori delle posi il crollo parziale di alcuni elementi della copertura. Questo documento è stato consegnato nel 2009 al comune di Taormina dove sembra che non solo la persona incaricata avesse la qualifica di architetto ma anche fosse capace di fatti premonitori perché ha spiegato perfettamente nel 2009 quello che è successo il 27 marzo del 2014. Alle 9 del mattino di giorno 27 alle 2.05 e 06 perché suonarono tutti gli allarmi che sono collegati con i nostri cellulari e quindi noi abbiamo un sistema particolarmente efficiente e quindi abbiamo percepito che stava succedendo qualcosa non sapevamo cosa fosse ma che c'era qualcosa in piscina gli allarmi iniziarono a suonare. Alle 9 del mattino ho capito l'entità del danno abbiamo inviato immediatamente al comune un fax chiedendo un immediato intervento qualcuno che fosse nelle condizioni di vedere effettivamente quello che era successo e possibilmente darci le indicazioni che ci aspettavamo. Alle 10 sono arrivato qui in piscina c'era il presidente la prima cosa che ho percepito era quello di dare immediata esecutività alla chiusura della struttura. Nel frattempo iniziarono una serie di telefonate, rinviamo un altro fax chiedendo che qualcuno venisse a controllare e immediatamente ci attivammo chiamando due persone importanti. L'ingegnere Vadalà è una ditta di Letoianne che è l'unica nella zona, così ci dissero, capace di poter lavorare perché è specializzata in capannoni industriali. Fatto questo appena che sono arrivati qua hanno chiesto 24 ore di tempo, l'ingegnere Vadalà ha preparato una relazione che abbiamo consegnato immediatamente al comune di Taormina. L'evento eccezionale, la grandinata che ha otturato gli scarichi e quindi la pioggia ha aggravato il tutto come si può vedere dalla copertura, mettendo in crisi i pannelli della copertura che sono comunque elementi secondari e non primari della struttura. L'intervento l'ha fatto nell'immediato, ripeto, perché un eventuale crollo aggreverebbe di molto le spese perché tirerebbe la copertura. Assieme alla relazione è arrivato il preventivo della ditta che avevamo chiamato e premettendo che i lavori per il riconsolitamento del tetto, più quelli strutturali, di mettere in sicurezza i due pilastri interessati, vanno 45 mila euro il danno più IVA. Quindi l'ammontare del danno, secondo questa ditta, è intorno a 50 mila euro. Quanto tempo ci vuole per poter realizzare la ditta si pronuncia da 20 a 25 giorni. Quindi mi garantivano 25 giorni la realizzazione con un costo di 45 mila euro. Quindi noi già lì, dopo due giorni, eravamo nelle condizioni di avere preventivi, di avere una relazione dell'ingegnere, di aver dato tutto quello che dovevamo dare per mettere a conoscenza il comune di quello che era successo. Non è che ci aspettavamo tanto, aspettavamo solo ed esclusivamente. E' venuto oggi, va bene, d'accordo. Ci sono voluti 16 giorni, 15 giorni, un tempo tecnico ci vuole per poter capire cosa bisogna fare dal comune a venire qua. Bene, ci stiamo parlando, ora non abbiamo più da aspettare nulla. Abbiamo la certezza di aver chiarito, tra l'altro siamo felici che il comune ha fatto venire l'ingegnere Zanchi, che abbiamo avuto la comunicazione, che è un ingegnere nominato dal sindaco, che è un esperto esterno, che praticamente deve andare a controllare le strutture. Ma siamo felici di averla accolta, lo aspettavamo sei anni fa. E' un evento straordinario, dovuto all'accumulo di acqua in un punto localizzato, la struttura è diventata pericolante dovuta a un cedimento del soffitto. La concentrazione di acqua all'interno, sopra il tetto, ha reso la struttura debole, indebolita anche nel corso degli anni, senza un'adeguata manutenzione da parte di chi doveva intervenire. E giustamente è ceduto. L'unico intervento possibile è sostituire questa parte, mettendo un adeguato rinforzo. La soluzione è semplice, praticamente, di andare a tagliare dalla parte circa una trentina di metri di lamiera, andarla a tagliare e ripristinare quella che è la parte della superficie indebolita. Non è complesso, però prima si fa, meglio è, perché sennò si rischia che la struttura scelta completamente. Lo aspettavamo dal primo giorno che abbiamo firmato il contratto, perché sicuramente oggi avremmo parlato di tante altre cose, di cosa realizzare in questa struttura, di quante cose si potevano fare e si possono fare per Taormina. Tutto il resto adesso è solo di metterci di buona volontà e di realizzare immediatamente i lavori per riaprire questa struttura. Il resto sono solo parole che ne possiamo dire tante e siamo tutti qua, i genitori, tutti aspettiamo questa lieta novella. Il piano regolatore di Taormina individua quella zona come zona sportiva e dovremmo partire da là, perché quello che impropriamente, come il palazzo dei congressi, che è un palazzo polivalente, anche la struttura piscina è un complesso polivalente. All'altro di quello che è successo, questa struttura non nasce per restare solo piscina, nasce perché doveva essere un centro polivalente sportivo. Allora quando fu fatto il bando di gara noi partecipammo presentando un progetto alquanto articolato, dove tutte le strutture esterne, quindi la possibilità di poter fare esternamente un impianto polivalente sportivo, fu presentato in sede di gara e questa nostra proposta, oltre che a vincere la gara, fu messa a contratto. Nel contratto di gestione prevedevamo alcuni lavori importanti, urgentissimi. L'indomani del contratto si doveva fare il tetto e poi altre cose particolarmente importanti, che sono i muri di contenimento del parcheggio e i muri di contenimento del campo di calcio, perché in questa struttura è previsto per contratto ed è previsto perché l'abbiamo proposto una diversità di campi che sono il calcetto, pallavolo, pallacanestro, tennis, poi c'erano anche le bocce e quindi tutto questo è stato motivo di richiesta da parte nostra al credito sportivo di un finanziamento che pare che sia da qualche anno che sospiriamo che sia proprio al punto di arrivo, perché c'è anche la regione di mezzo e quindi noi come struttura, come associazione, impegnarci da privati a realizzare una struttura che rimane a Taormina, che mai nessuno può diventare privato e proprietario di qualcosa, ma sarebbe stata ed è il nostro unico scopo di ampliare l'attività, oltre quella della piscina, di fare anche attività sportiva polivalente. Bene, noi non facciamo altro che dall'inizio, che ci vede qua dentro, di chiedere una minima collaborazione, è l'unica cosa che chiediamo, noi abbiamo bisogno di far sapere che quando organizziamo una gara di nuoto abbiamo riempito gli alberghi, abbiamo riempito i ristoranti, quindi un segmento anche piccolo dal punto di vista turistico, lo sport lo dà, quindi noi ci inseriamo perfettamente nel tessuto amministrativo e organizzativo di Taormina. E analogamente, quando possiamo offrire di più, dando una varietà di possibilità sportive, quindi tutto ciò che ho premesso, io penso che l'amministrazione debba per un istante pensare anche che qui ci sono dei privati che vogliono scommettere, mettendosi veramente in prima battuta. Qua ci sono i presidenti dell'associazione che da anni si battono per queste cose, quindi noi chiediamo solo questo, di pensare che Taormina possa essere anche un polo d'attrazione sportiva, oltre a quello che già offre. Quindi tutto questo in cosa si traduce? Pensiamo solo in un momento di ragionamento, sederci attorno ad un tavolo e iniziare quei lavori. E per concludere, nel progetto c'è anche un teatro. Questo teatro è stato realizzato, chiaramente, su carta e prevede qualcosa come 2.500 posti a sedere. Cosa vuol dire? Questa Taormina offrirebbe, oltre al teatro greco, la possibilità di avere un'attività culturale e teatrale con segmenti diversi, quindi pensiamo al jazz, pensiamo al cabaret, pensiamo ad altre attività che comunque possono essere d'ausilio sempre alla bella Taormina. Penso che il dottore Caglio non è che gestisce solo ed esclusivamente le vasche della piscina, ma tutto quello che è il polo sportivo. In quella visita che io ho fatto, mi sono reso conto delle potenzialità che ha questo centro polifunzionale, che pochi conoscono, che può dare delle risposte sia in campo turistico che in campo sanitario, e che purtroppo forse i cittadini di Taormina conoscono poco e male. Ho detto, io un paio di anni fa ho rivisitato questa struttura con un noto giornalista da Orminese, sono sceso, ho conosciuto il gestore, ci siamo fatti una chiacchierata e come il mio solito mi sono fatto un giro, un percorso su quello che la struttura era e quello che purtroppo è attualmente. Lì c'è un parco giochi che è una vergogna, abbandonato. Tutti quelli che dovevano essere i servizi per i campi di calcetto, sono in un degrado che io inviterei a farsi una passeggiata per rendersi conto quella struttura in che stato è, e non so se è colpa della gestione del comune, eccetera. Detto questo poi c'è da dire sul perché determinate cose non le fa il conduttore, se al conduttore vengono fatte delle ispezioni per vedere, se le manutenzioni ordinarie, eccetera, vengono fatte attraverso una programmazione. La competente commissione consigliare potrebbe farsi una riunione con chi ha in gestione questo complesso e rendersi conto in tempi rapidi su quello che c'è da fare. perché da un lato il comune ora è stato ammesso a finanziamento del risparmio energetico, quindi sarà fatto l'ennesimo investimento là sotto nel centro polifunzionale. E secondo me sarebbe opportuno rivedere questi termini contrattuali per cercare di stabilire e definire quello che deve fare il conduttore e quello che nella proprietà comunale, quello che vuole il comune, l'amministrazione, per dare una risposta ai giovani daorminesi e non solo ai daorminesi, perché questa infrastruttura è stata al tempo finanziata dall'assessorato al turismo. Prova ne sia che la lunghezza delle vasche e della piscina non permettono delle gare olimpioniche e proprio per questo, se chi ha la volontà si va a leggere questi documenti eccetera della realizzazione che vede che ci sono le piscine, i campetti, i campi da tennis, la clubhouse eccetera proprio per permettere nella stagione invernale ai turisti di potersi godere il sole e le temperature mite di taormina e avere una zona dove potersi ricreare. Noi ci siamo spesi sin dall'inizio per fare tutte queste cose, ora vorremmo capire chi è contrario, si alzi e lo dica, vogliamo sapere chi la pensa in maniera diversa e perché non si mettono subito in moto tutte quelle attività che possono servire a realizzare nel più breve tempo possibile quello che noi da tempo auspichiamo, quindi non solo polo sportivo ma anche polo di attrazione teatrale. Abbiamo fatto anche di più, ci siamo anche spesi, abbiamo offerto grazie al titolare di terreni che sono qui adiecenti alla struttura, gli ho offerto gratuitamente la possibilità di realizzare una strada che da Mazzarò salisse su fino alla struttura, addirittura come via di fuga mettendo anche a disposizione un'ambulanza perché da qui si potesse scendere in maniera veloce giù. Quindi abbiamo presentato un progetto di massima, abbiamo cercato di dare la nostra collaborazione sempre mettendo i nostri amici perché qua sono tutti volontari, fanno cosa dell'altro mondo, i nostri amici a disposizione del Comune. Tra l'altro dire via di fuga significa che parte dei finanziamenti potrebbero essere chiesti alla protezione civile regionale e quindi non è solo una spesa del Comune ma la strada è dei cittadini, la strada è dell'utenza, la strada è del Comune di Taormina, la piscina è degli utenti, la piscina è dei cittadini. Quindi questa battaglia a difesa del nulla a che cosa porta? Dove dobbiamo arrivare? E allora noi ci stiamo chiedendo e interrogando, vogliamo capire chi è d'accordo a che si realizzano queste cose. Anni di lettere, anni, anni, anni interi che non si fa altro che scrivere. Allora noi oggi diciamo l'impellenza è riaprire la piscina. Ricordiamo che abbiamo una squadra e questa squadra è fatta di bambini che ha anni che dedicano il loro tempo a migliorare le loro prestazioni, genitori che fanno sacrifici infiniti e tutti i cittadini che usufruiscono di questa bella struttura. Pensiamo è sempre in positivo. Siamo sicuri che l'amministrazione in tempi veramente brevi capisca che è necessario che questa piscina riapra. Oggi abbiamo la presenza di un funzionario del Comune, abbiamo la presenza di un ingegnere che è stato nominato con determina sindacale ma ha anche altre competenze quindi abbiamo il piacere di fargli vedere tante altre cose che questa struttura ha e che sono state fatte perché possa essere sempre una struttura efficiente perché per chi gestisce la piscina l'ultima sentenza del Consiglio di Stato dice che la piscina è una struttura pericolosa e chi gestisce questa struttura i vari presidenti che si sono succeduti in questi anni non hanno fatto altro che pensare alla salvaguardia della vita umana e alla certezza che tutto ciò che fosse qua dentro fosse a norma e sotto i dettami della legge perché noi siamo dentro la legge e vogliamo starci. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!